Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial della Tana dei Goblin. Astronite è un gioco collaborativo da 1 a 4 giocatori dove il deck non viene mai mescolato. In Astronite collaboriamo per distruggere il boss che minaccia il nostro mondo. È composto da round dove i turni tra i nostri e il boss si alternano in modo random e sono gestiti da un mazzetto dei turni. Nel nostro turno acquisiremo fuel, deck e weapon per sconfiggere il boss. In questo tutorial faremo il setup per una partita a 2 giocatori, ma nel regolamento potrete vedere le modifiche da fare al deck dei turni in base al numero di giocatori, sia in solitario che in 3 giocatori che poi in 4 giocatori. Bene, iniziamo dalla selezione del boss. Questi sono i boss che abbiamo disponibili nella scatola. Girando le plancette possiamo vedere che ogni boss è caratterizzato da un challenge rating che ne descrive il livello di difficoltà. Iniziamo questo tutorial selezionando il boss con il challenge rating più basso. A questo punto possiamo prendere i deck appartenenti a questo boss. Il mazzo principale del boss è composto da carte che in basso a sinistra hanno delle indicazioni dove abbiamo all, 4, 3 più e 2 più. Queste informazioni si serviranno per comporre il mazzo. Per una partita a 2 giocatori prendiamo le carte con all e aggiungiamo quelle con 2 più. Se dovessimo fare una partita a 3 giocatori dovremmo aggiungere anche le carte con 3 più, ma non è questo il caso. prendiamo le carte selezionate e componiamo il mazzo meschiandole. Le rimanenti non le mettiamo da parte ma comporranno il mazzo degli scarti. A questo punto giriamo la plancetta del boss e impostiamo la vita in base a quanto indicato al centro della plancia. Sul retto del boss inoltre ci sono aggiuntive informazioni sul setup. In questo caso ci indica di prendere il mazzo artiglieria con le sue carte speciali, di miscolarlo e di posizionarlo di fianco alla sua plancia. Successivamente ci indica di girare la plancetta e di mettere il segnalino su 0 artiglieria. Sul fronte ci sono spiegate tutte le regole speciali del boss che cambiano da un boss a un altro. Inoltre ogni boss ha le carte dei livelli e che teniamo di fianco alla plancetta principale e una carta che modifica la difficoltà a esperto o a nightmare. Se volessimo utilizzarla la metteremo in quella posizione e dovremo applicare l'effetto descritto. Passiamo ora alla selezione dei personaggi. Ogni giocatore sceglie uno fra i personaggi disponibili. Giriamo la plancia del personaggio e costruiamo la mano iniziale e il deck iniziale in base a come è indicato. In questo caso questo personaggio avrà tre core, la sua carta speciale, un blazer nella sua mano iniziale. Il suo deck invece sarà composto da tre power core e due blazer. mettiamo le carte che compongono il deck iniziale di fianco alla plancetta del personaggio. A questo punto possiamo girarla e piazzare i tondini del colore corrispondente dove indicato da una luce bianca per quanto riguarda lo slot per quello giallo, il power per quello blu e la vita per quello rosso. I personaggi avranno inoltre assegnato un numero. Essendo questo tutorial una partita a due giocatori, un personaggio avrà il numero 1 e un altro personaggio avrà il numero 2 assegnato. A questo punto abbiamo terminato la preparazione dei personaggi. Scegliamo un mondo che vogliamo proteggere in questa partita e rimettiamo gli altri nella scatola. Sul mondo scelto piazziamo il cilindretto blu sul tracciato power e impostiamo la vita in base a quanto indicato sulla carta stessa. Possiamo ora preparare i sei mazzetti del supply. Le carte nel supply sono composte da carte fuel con il fondo viola, dalle carte tech con il fondo verde e i tre mazzetti con le carte weapon con il fondo arancione. ogni mazzetto è caratterizzato da un simbolo in basso a sinistra. Mescoliamo ogni mazzetto del supply separatamente e poniamolo a faccia in giù. A questo punto giriamo la prima carta di ogni mazzetto. A parte mettiamo a disposizione i segnalini ferita che ci serviranno in seguito. Possiamo ora preparare il deck per l'ordine di turno. Ci serviranno due carte per il primo giocatore, due carte per il secondo giocatore e poi le due carte per il turno del boss. Mescoliamole e avremo il deck del turn order pronto. Vediamo ora come utilizzarlo. All'inizio di ogni turno gireremo una carta e se è quella di un giocatore sarà il turno di quel giocatore. Quindi player 1 è il turno del giocatore 1 che farà appunto il suo turno per intero. successivamente gireremo la successiva carta del turno e se invece uscirà quella del boss sarà il turno del boss. Questo finché non finiremo tutte le carte del deck. A questo punto le rimescoleremo casualmente e inizierà un nuovo round di gioco. Il turno di un giocatore è diviso in tre fasi principali. La prima fase d'attacco, la fase principale e la fase di pesca. Iniziamo con la prima fase del turno di un giocatore, la fase di attacco. In questa fase attaccheremo con le armi che abbiamo già equipaggiato in precedenza sul nostro personaggio. Dopo averle applicate queste armi andranno negli scarti. Se dovessimo aver equipaggiato più di un'arma, sceglieremo noi quale applicare per prima e sceglieremo innanzitutto se il danno andrà al boss direttamente oppure a uno dei minion che sono presenti in campo. Successivamente abbiamo la fase principale dove potremo fare qualsiasi delle seguenti otto azioni nell'ordine che vogliamo e quante volte vogliamo. Abbiamo giocare una Fuel o una Tech, acquisire una nuova carta, caricare una Tech, acquisire un nuovo slot, equipaggiare una Weapon, fare il Power Up, attivare la nostra abilità o attivare l'abilità della Homeward. Dalla nostra mano possiamo quindi giocare una carta Fuel o una carta Tech applicando i loro effetti. Alcune carte ci danno la possibilità di scegliere fra due effetti e applicheremo solo uno dei due. Le carte Fuel che giochiamo ci forniscono l'energia per fare diverse cose. Sommiamo l'energia appunto che ci forniscono e la prima opzione è fare il Power Up della nostra abilità. Possiamo anche in questo caso ripeterla più volte, ogni Power Up costerà due energia. In alternativa abbiamo acquisire uno slot che ci costerà tre energia ad ogni passo oppure acquisire una delle carte che sono disponibili nel mercato. Prendiamo la carta che vogliamo acquistare pagando il costo relativo e la mettiamo in cima al nostro mazzo degli scarti. Gireremo la successiva carta che sarà disponibile all'acquisto anche per noi. Attenzione, alcune carte forniscono degli effetti anche quando vengono acquistate, come questa. Allo stesso modo possiamo giocare una carta tech, porla nella nostra area di gioco e applicare l'effetto. In alternativa possiamo fare l'overcharge di una tecnologia direttamente dalla supply che significa che possiamo pagare come se la stessimo comprando ma applichiamo immediatamente l'effetto descritto. A questo punto la mettiamo in fondo al mazzo del mercato e gireremo una nuova tecnologia disponibile per essere acquistata o ancora caricata. Gli slot rappresentano la quantità di carte weapon che possiamo equipaggiare sul nostro personaggio. Quando acquisiamo un nuovo slot pagando teleenergia spostiamo l'indicatore di un passo in avanti. Possiamo arrivare fino a quattro carte equipaggiate. Quando equipaggiamo una weapon la poniamo di fronte al personaggio. Attenzione, alcune carte weapon hanno delle abilità che si attivano quando le equipaggiamo. Se per qualche effetto negativo del boss dovessimo iniziare il turno con più carte weapon degli slot che sono a nostra disposizione dovremmo scartare un'arma a nostra scelta prima di utilizzarla. Con i power up possiamo pagare due energie per far salire questo tracciato blu della nostra abilità. Questo possiamo farlo anche quando il power up è un effetto di una carta che abbiamo giocato. Quando raggiungiamo il massimo possiamo attivare la nostra abilità. A quel punto dopo averne esaurito l'effetto tornerà sullo zero. Il power up della home world non può essere fatto pagando energie ma solo tramite l'effetto delle carte che lo contengono come in questo caso. Quando giochiamo una di queste carte alzeremo il cursore della power up della nostra home world di un passo. Quando questo cursore arriverà al massimo potremo attivare l'effetto descritto sulla home world e successivamente abbassarlo di nuovo a zero per permettere di riutilizzarlo tramite altri power up. Arriviamo all'ultima fase del trono del giocatore che è quella di pesca. In questa fase scatteremo tutte le tech e le carte fiule che abbiamo utilizzato durante il turno negli scarti e sceglieremo noi l'ordine con cui le metteremo appunto sopra gli scarti. A questo punto possiamo scartare eventuali carte che ci sono rimaste in mano e pescare fino a tornare a 5 carte in mano. Se il nostro tech si esaurisce gireremo gli scarti senza mescolarli e pescheremo le carte rimanenti. Durante la partita possiamo sempre controllare il mazzo degli scarti ma senza alterare l'ordine delle carte che vi sono in esso. Non possiamo invece controllare il nostro mazzo. Abbiamo quindi detto che dal deck dell'ordine di turno sapremo a chi toccherà svolgere il turno. Potrebbe anche capitare che tocchi a noi per due volte di seguito e questo è perfettamente normale, non vi preoccupate. Quando arriverà la carta del boss sarà il boss a svolgere il turno. Vediamo in cosa consiste. Il turno del boss è composto da due fasi, la fase principale e la fase di pesca. Come prima cosa attiveremo tutte le abilità con Activate dei minion che sono già presenti in campo, come questi due. Nella seconda parte peschiamo una carta dal mazzo del boss. Se la carta è uno strike applichiamo immediatamente l'effetto e la mettiamo negli scarti. Se la carta che andiamo a pescare è invece un minion, lo mettiamo insieme agli altri, nell'ordine in cui sono già stati posizionati i precedenti. Non applicheremo l'effetto di Activate, perché questo avviene solo nella prima fase del turno del boss, invece metteremo la vita del minion. Quando il deck di pesca si esaurisce e dobbiamo andare a pescare una nuova carta, il boss passa a un nuovo livello. Se era a livello 1, passerà a livello 2. Applicheremo gli effetti instant presenti sulla carta, mentre quelli Activate si attiveranno nella prima fase del boss, insieme a tutte le abilità di Activate dei minion. Attenzione che anche la vita dei minion si modificherà in base a quanto scritto sulla tessera del livello in basso a destra. Quindi modifichiamo anche le vite dei minion presenti in mappa. Alcuni minion hanno delle abilità instant, che applicheremo immediatamente quando verranno messi in campo. Quando abbiamo modificato il livello, creiamo con gli scarti il nuovo deck di pesca del boss. Se anche quest'ultimo mazzo dovesse esaurirsi, metteremo in gioco il livello successivo del boss. Se questo livello dovesse essere l'ultimo disponibile del boss e il deck si esaurisse nuovamente, e dovessimo pescare una nuova carta, avremmo perso la partita. Ogni boss ha inoltre un'abilità speciale. In questo caso, questo boss accumula punte artiglieria, che poi utilizza nel suo turno per utilizzare le carte dal deck artiglieria. Applieremo quindi il loro effetto e le metteremo nei loro scarti. Quando un personaggio deve perdere delle vite, toglieremo il corrispettivo delle vite dal tracciato rosso. Se un personaggio raggiunge lo zero di vita, si esaurisce. Quando ciò accade, ogni boss ha un effetto che si applica appunto quando un giocatore è esaurito. Se tutti i giocatori arrivano a zero di vita, la partita è finita e i giocatori hanno perso. È sufficiente che anche uno solo di loro rimanga in vita. Quando si arriva a zero, non ci si può più curare le vite, ma si può continuare a giocare normalmente. Se un giocatore dovesse prendere danno ulteriormente quando arriva a zero, questi danni dovranno essere presi dalla homeworld, in numero pari al doppio di quelli che avrebbe dovuto prendere il giocatore. Se ad esempio questo giocatore prende quattro danni, due danni li prenderà lui stesso arrivando a zero, i rimanenti due diventano quattro e dovrà prendere la homeworld. Se anche la homeworld arriva a zero punti vita, la partita è comunque terminata e i giocatori hanno perso. Quindi, oltre a tutti i personaggi esauriti, alla homeworld distrutta, alla pesca dal mazzo, quando il livello del boss è al massimo senza carte a disposizione, alcuni boss possono vincere anche con delle regole speciali personali. Come in questo caso, questo boss vince quando ha in gioco dieci droidi. Vi ricordo invece che l'unico modo che avete voi giocatori per vincere ad Astronite è portare a zero i punti vita del boss che è stato affrontando. Siamo arrivati alla fine di questo tutorial. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Spero che il tutorial vi sia utile. E vi auguro un buon gioco.